ragazzi buongiorno siamo qua con il maestro mogol per proseguire il nostro lavoro abbiamo ricevuto le domande dei nostri ragazzi e ora inizia la selezione e ci diamo dei tempi le domande sono state numerose la regione marche è orgogliosa di avere dato a questi nostri marchigiani questa opportunità in una delle scuole più famose del mondo perché so che siete sbarcati in america con grandi aspettative e soprattutto per mettere le nuove generazioni a contatto con un maestro di eccellenza quale giulio al quale do la parola perché ci dia le ultime notizie grazie io intanto mi comprimento con l'assessore e la regione per dare questa chance ai ragazzi delle macchie questa è una bellissima cosa poi noi abbiamo ricevuto dall'assessore tutte le le domande e quindi col materiale e che esamineremo con tutti i nostri docenti e una cosa ve lo prometto sarà una mutazione oggettiva sia oggettiva vuol dire sulla base vera del del valore comunque io verrò e vi faremo sapere chi ha vinto ma prima di farvi sapere dare una lezione su come si canta oggi nel mondo e lo farò per tutti per tutti tutti quelli che hanno mandato potranno venire e assistere questa ricezione perché per quanto riguarda il canto credo che sia molto come dire utile per imparare a cantare non come si cantava 30 anni fa ma come si canta oggi allora arrivederci al 2 settembre si pomeriggio al pomeriggio e l'ora precisa vi sarà daremo comunicazione sulla pagina della regione della location e dell'ora quindi potrete tutti partecipare grazie grazie mille grazie a te